Siamo qui al teatro HM, con Amanti, una produzione del teatro di Anani, parliamo subito con Massimiliano Gallo, vediamo come ha impostato questo personaggio. Ma questo spettacolo nasce dalla volontà mia di Ivan di approcciarlo al teatro, nel senso che Ivan è un autore di grandissimo successo per cinema, serie tv, e io era da un po' di tempo che gli chiedevo un testo per il teatro. Poi è arrivato a Amanti con il testo e il regia di Ivan Cotroneo, che ha avuto un enorme successo, già dallo scorso anno abbiamo deputato a Perugia, poi Napoli e poi Milano, e ha avuto un enorme successo perché è uno spettacolo in cui un po' tutti si possono ritrovare, chi perché ha vissuto in prima persona queste cose, chi perché le ha sentite raccontare, casomai, dal suo amico o dalla sua amica, ma sono dinamiche che raccontano in maniera eccellente il maschile e il femminile, è chiaramente in chiave di commedia, quindi si ride tantissimo, poi si riflette, poi ci si emoziona. La scena, come vedete, è divisa in due parti, quindi una parte è la stanza a letto dove si incontrano gli amanti e l'altra è quella dalla psicologa in cui gli amanti sotto al palazzo si sono conosciuti per la prima volta. Quindi è un testo incredibile per l'empatia che crea nel pubblico e per l'emozione che dà. Cosa c'è in comune con questo personaggio se c'è qualcosa? Ma in comune con me? No, io sono stato un traditore seriale, adesso da un bel po' ho cambiato percorso, però credo che la bellezza poi di queste storie sia nel fatto che siano molto vere perché comunque insomma inizi a domandarti, a farti domande sull'amore, la qualità dell'amore, che cos'è una storia d'amore, che cos'è essere amanti, se questa cosa ti crea un senso di colpa, se non lo fa. E quindi è talmente enorme la cosa che raccontarla diciamo in due parole è una storia, se io te la racconto quella del nostro testo, è una storia banale, due che si incontrano e diventano amanti. Poi vai a esplorare con la penna di Ivan. La penna di Ivan. C'è un qualcosa di cinematografico in questa regia teatrale oppure no? E se sì, dove? Già nell'impianto scenico, nel senso la scena è divisa a metà, ci sono quindi delle luci che coprono una metà alla volta, quindi c'è un'idea di impianto di set cinematografico. Però poi devo dire che Ivan invece in maniera molto intelligente si è aperto completamente al mondo del teatro e ne è rimasto affascinato, quindi lui scherzando dice hai creato un mostro perché io voglio fare sempre teatro perché poi ha provato l'ebbrezza della risata, di sentire il pubblico, le reazioni, gli applausi. È una cosa che non è descrivibile per uno che è stato solo sul set, però è uno che diciamo dai libri al cinema, alla tv, scrive sempre cose bellissime. Il pezzo più difficile da interpretare, in questo spettacolo c'è il momento più difficile? Ma forse il momento più che difficile perché poi al teatro mi sento molto a casa, quindi più che difficile forse quello più emozionante è il finale, è un momento molto bello che chiaramente non possiamo spoilerare, però è una cosa che spesso ci emoziona pure a noi che la facciamo. Profumo di palcoscenico, è vero che c'è quel qui di in più, quando si recita con il pubblico oppure no? Per me sì, nel senso io ho sempre detto che io con tutti gli impegni che ho a cinema e in tv io comunque non lascio mai il teatro, devo fare almeno 3-4 mesi di teatro per un fatto fisico proprio. Ho bisogno e di incontrare il pubblico e di avere proprio uno scambio di energie, quindi io mi carico molto a livello di adrenalina col pubblico, mi sento diciamo ripagato pure delle cose perché il set è molto asettico, è una cosa che diciamo il risultato del set ce l'hai quando poi vedi il prodotto finale, lì ti emozioni, capisci se hai fatto un buon lavoro o no, il pubblico è una cosa che non perdona, la bellezza di uno spettacolo è che nasce e muore quella sera, è irripetibile, non sarà mai più lo stesso, c'è uno scambio interessante, tant'è vero che dopo la pandemia la gente aveva bisogno di tornare in sale, le sale secondo me sono un luogo sacro, sono l'unico punto, luogo di aggregazione rimasto in questo tempo in cui non ci si incontra più. C'è un personaggio che ti manca? In questo momento della carriera hai fatto di tutto, sia cinema, televisione, teatro, ma ce l'ha un sogno nel cassetto artistico? Massimiliano Gallo oppure no? Guarda, sinceramente ho fatto talmente tanti generi diversi, a teatro sono passato alle farsi, a Strimberg, a Pirandello e a cinema, ho interpretato dai cattivi, più cattivi in assoluto, quindi Fortapace, Perez, e poi sono andato su generi completamente diversi, ai film di Salem, a quello di Garrone, Sorrentino, quindi ho avuto il piacere poi di conoscerli un po' tutti, ho ospedec, di frequentarli tutti, quindi in tv ho avuto il grande regalo di fare due Edoardo, quindi Filomena Marturano e Napoli Milionaria che hanno avuto un enorme successo, quindi sono molto appagato, diciamo molto contento del cammino. Grazie mille per essere stato con noi, adesso un saluto al pubblico di Dietro le Quinte. Ma io faccio un saluto enorme al pubblico di Dietro le Quinte perché è un pubblico che sceglie di sentire, ascoltare, vedere, assaporare cose di teatro, cose che stanno dietro le quinte, cosa c'è di più bello. Teatro Verdi di Salerno, appuntamento con Family Fluts, siamo qui con Gianni Bettucci e questa sera andrà in scena Hotel Paradiso. Hotel Paradiso che cosa accade? Hotel Paradiso è il nostro classico che da 20 anni portiamo in giro per tutto il mondo, siamo stati in 42 paesi ed è un thriller alpino, comico. Succederà veramente di tutto, la particolarità di questa compagnia è l'utilizzo delle maschere, le maschere con una doppia funzione perché non solo si fa vedere l'emozione del personaggio ma anche c'è la possibilità di fare tanti ruoli per un attore, giusto? Esatto, questo è un aspetto economico non da sottovalutare per una compagnia teatrale internazionale in questo periodo, infatti in questo spettacolo ci saranno solamente quattro attori che daranno vita non solo a tutto il team di receptionist, cuochi, donne delle pulizie dell'hotella ma anche di tutti gli ospiti che arriveranno attraverso questa porta girevole e non solo ospiti vivi ma poi ne usciranno anche cadaveri. Cadaveri, quindi è veramente una cosa fantastica. Raccontaci della tua funzione di questa compagnia perché tu sei un clown manager, che significa? Allora io fondamentalmente ho conosciuto questa compagnia 24 anni fa in Germania, a Berlino e ero già un attore e con loro ho imparato a fare il clown in maniera professionale però la cosa che veramente più mi attirava era quella di portarli in giro per il mondo, farli conoscere per cui fondamentalmente ho unito queste due professioni che avevo e ora sono un clown manager cioè nel senso non sono il manager noioso che parla solamente di affari ma anche un po' divertente è un po' divertente però senz'altro di successo perché qui si parla di repliche a quante repliche siete arrivati? Oddio io mi sembra che nella noia della pandemia ci siamo messi a contare ed eravamo a 4.000 e ora ci siamo, ora saremo 4.500, 5.000 non lo so ora alla prossima pandemia rifacciamo il conto però è uno spettacolo che funziona perché è internazionale in quanto l'utilizzo della maschera è uno spettacolo proprio per tutti, che cosa ne pensi di un ritorno al passato? Oggi si utilizzano scenografie digitali, si dà molto importanza all'immagine qui invece c'è molto teatro Noi appunto cerchiamo di portare il teatro alla sua magia originaria per cui chiaramente non possiamo competere con gli effetti speciali, con il cinema, con la televisione eccetera per cui cerchiamo con i mezzi più semplici di risvegliare quella magia e quell'emozione che solo un'esperienza dal vivo può comunicare E poi c'è anche probabilmente un doppio senso perché essendoci la maschera il pubblico interpreta come crede la storia o no? Il pubblico partecipa al 50% di questo spettacolo infatti noi diciamo che tutte le sere in questo teatro per esempio stasera ci saranno 700 spettacoli diversi perché la maschera chiaramente è fissa ma incomincia a muoversi nella testa dello spettatore e le emozioni che prova la maschera sono le emozioni che immagina e sente ogni spettatore e ogni spettatore ha emozioni e immagini diverse C'è un pubblico diverso? Questo è uno spettacolo che ha veggiato tanto anche all'estero Qual è il pubblico migliore e qual è invece quello un po' più difficile da conquistare? Esiste? Ah sì, ogni paese ha una reazione tipica sua per esempio in Cina il pubblico è molto silenzioso e ridacchia mentre per esempio in Finlandia il pubblico non reagisce minimamente e poi alla fine applaude come se fosse un'armata e poi c'è il pubblico italiano invece che è una festa o per esempio c'è il pubblico africano, noi siamo stati molte volte in Zimbabwe a un festival che interagisce e noi eravamo molto sorpresi perché questi proprio parlavano aizzavano come se fossero a uno stadio per cui insomma nel senso il pubblico, come dicevo prima in uno spettacolo in cui non si parla il pubblico e la reazione del pubblico fa molto lo spettacolo E voi invece come reagite quando c'è un pubblico, c'è un dietro le quinte da raccontare durante questi spettacoli, le reazioni del pubblico, qualcosa che è successo tra voi attori? Non c'è tempo durante lo spettacolo perché noi non abbiamo aiuti nel backstage per cui sono i quattro attori che si devono cambiare le maschere, i vestiti nel giro di tre secondi passare dalla figura di un bambino di quattro anni a quella di una vecchiettina di 90 per cui è tutto molto ritmato, una coreografia non solo sul palcoscenico ma anche dietro le quinte Quindi insomma è una tavola ad orologeria ogni sera Questa sera qual è la parte più difficile dello spettacolo? Cioè magari che prevede più cambi, che magari dove ci avete messo più tempo a prepararla? È la parte che però per questioni di spoileraggio non posso, però è nel centro dello spettacolo quando nell'albergo l'armonia alpina, l'idillio alpino viene interrotto da un temporale e lì in quel momento succedono tantissime cose nel giro di pochi minuti quasi tutto al buio e si può immaginare quando già si ha una maschera per cui non si vede niente è quasi buio sul palcoscenico, è difficile muoversi per cui lì è veramente una coreografia non solo una coreografia ma una coreografia al buio Ci sono delle storie che si prestano di più a questo tipo di teatro? Quando voi scegliete i vostri testi da raccontare in questo caso come funziona? Qual è la storia che vince? Fondamentalmente la storia che vince è la storia che parla di emozioni perché la maschera non può veicolare idee la maschera può comunicare solamente emozioni per cui sono tutte storie che si basano su emozioni conflitti che si basano su emozioni ed è per questo anche che il pubblico esce sempre molto emozionato dai nostri spettacoli perché attiviamo proprio quelle emozioni lì E dopo Salerno voi dove sarete? Allora dal martedì siamo alla Salomberto di Roma poi continueremo con Firenze, il Puccini poi saremo al Bellini di Napoli e poi non me lo ricordo però tutte le date sono nel nostro sito web www.floets.net Grazie mille per essere stato con noi adesso un saluto al pubblico di Dietro le Quinte Questa è per la seconda volta che ho il piacere di salutare il pubblico di Dietro le Quinte vi aspettiamo nei teatri e forse per una terza volta qui